Musica Chi è? Chi è che bussa? Hey, è Keb Ma c'è una carta di Magic sul nostro letto Ma c'è una carta di Mh 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 I'm sorry about last night, I didn't hear about the museum until it was too late to warn you The collective don't tell me shit You should come to the idols party with Eli and I later Open bar? No? Okay Okay, I'm gonna go Just uh... Just know that Eli and I are worried about you guys Beh, grazie della preoccupazione Kevin Esci dal cazzo di letto Ahia, che male A voi è mai capitato di... di cadere dal letto così? Per sbaglio, non... tipo mentre dormivate eh Fammi vedere una roba Dai, fammi vedere un attimo Ci sono delle figurine Di animali C'è un film lì C'è un film lì Well Actually Che probabilmente è una citazione a qualche tipo di film reale Andiamo a fare colazione E che dire E che dire Vabbè, vediamo cosa c'è nel frigorifero Best ok boss Vodka E un waffle Beh, dai Ecco la piastra dei waffle che è costata 20 dollari Ciccink Puoi tenerlo anche giù eh God damn it Adesso la spacca Stupid refurbished appliances Ma dai Stavo per dire e dai ce l'abbiamo fatta Figures Oh e dai Almeno ci sediamo con la nostra coinquilina Mi chiedo se ci siano le scene di rapporti fra i companion come in Centro 4 Il buca polmoni Due ore dopo Bello Bello No Kevin Oh shit Eh dai Meno male Comunque mi sa che Nina Dei compagni E' quella che Ha più attaccamento Verso il boss Qualunque esso sia Come lo era Shondi Nel Nel 3 Nel 4 Vai pure Posso avere un white wine spritz Pam 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 E niente spritz stasera Eli Ce l'hai una pistola? Sei ok? No Non penso che Ma lui c'ha un waffle tatuato Comunque dai non muore Non muore perché era nella sequenza più avanti di immagini quindi A meno che non era solo nella nostra immaginazione Però tanto non muore Non muore Stai tranquillo che non muori Eli Vai Ma siamo in mutande Non è una bella idea Aspetta Ok penso che la missione Vada proprio così come deve dai 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 Sì, sicuramente, esatto Aspetta, aspetta, aspetta Eh, esatto, però no Ah, fuck you, eh esatto Dobbiamo sbrigarci prima che quei due crepino Per fortuna non è una missione a tempo Forse Stiamo arrivando molto piano Visto che abbiamo un furgone Capito? Ti salveremo, Eli Forse però potevi anche tenerlo un attimo Il telefono acceso Esatto, oh, che bravi Ed è da questa missione che crearono i Saints Comunque dai, non ci ho Non sono andato tanto lontano da quello che pensavo Dalla missione che abbiamo fatto La volta scorsa Lemati Alla fine, il casino è successo Ecco fatto Allora Facciamo un attimo il giro Perché così Mi evito Il grosso degli stronzi Dove dobbiamo andare, aspetta Deve andare più avanti Dov'è l'entrata? E' qua l'entrata Ok Aspetta che Ecco fatto Scendi Minchia è volato via questo Beccati questa Ahia Ma l'avevo Ti ho sparato Quello la sta facendo Dal ballo di Fortnite Vieni qua che ti Spacco la faccia Cretino Grazie Ora Dove siete Allora Cambiamo arma Devo dire che la Uzi Comunque non è male Molto veloce C'ha poche munizioni Però Comunque Fa male La velocità La recuperiamo Per fortuna Dai Eli Dai che ce la fai Arrivano i pezzi grossi Eh ma c'ha ragione Non so perché Per un secondo Ho pensato a Johnny Fermi Non posso Sono la mia famiglia I'm waiting Scelta sbagliata Ragazzino Bene Siamo tre Contro un esercito Ora Vai Penso che Abbiamo fatto Un bel casino Dai Vieni a prendermi Stronzo Aia Minchia Che male Ok Eli Let's go Prendilo Vai dire che è stata Una grande giornata Ed è stato un finale Bellissimo Che l'abbiamo finito Con la mossa di Karate Kid È stato bellissimo Aia Mi è piaciuto un sacco Che l'abbiamo finito Alla Karate Kid Davvero Dove Ok prendiamo questo Entra Come faccio a entrare Forse devo buttare giù L'arma Ma a questo punto Non riesco a buttarla giù E finiamole A questo punto Ecco fatto Ecco fatto Più che altro Davvero Senza musica Ma Non capisco Se è colpa mia Che sono tutte Musiche con licenza Oppure Il gioco è fatto così Il che comunque Non mi dispiace Per carità Però Presi Beh per fortuna Le munizioni Sono infinite Dai Almeno quello Preso Qualcun altro Che vuole fare L'eroe oggi Preso in pieno No Non ho ancora Vista roba Ma gli sparate In faccia A questo Devo pensarci io Preso Dai Presi Uuh Arriva tizio grosso Cazzunto cattivo Minchia Che male Preso Dai 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 Ecco fatto Per fortuna Questa macchina È piena di RPG No Presi E siamo saliti Di livello Che culo Che colpo Ragazza Che colpo Sta ragazza Sta bra Ragazza è bravissima Guidare Sì ma almeno Togliete i vestiti Questa è una nuova ganga Oh E l'ha detto Ce la possiamo cavare Exatto Il gatto Il gatto Il gatto Il gatto Il gatto Il gatto Dobbiamo trovare Dobbiamo trovare Un nome Che sia figo Che sia potente E che attiri L'attenzione Sì il capo Di te stesso Beh Mica male dai L'auto Di Eli Il lancia Razzi Chiama I rinforzi Eli Kevin Nina Tra i chiamabili Dai contatti Beh che dire Sì ma Perché sono in posa Da fucile in mano Comunque Comunque Fermi un secondo Fammi rivedere Le mie armi Nella mia lista Di armi Perché io Il fucile Che ho preso Da terra Era solo Un'arma Momentanea E un'arma Che potevo tenere Dubito Però Il lancia Razzi Però Volentieri Lo prenderei Mi sembra Molto più Preciso Di questo Ed è così Che nacque Roy Saints Cosa dopo che ti hanno sparato Non è così male Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti